segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te riprendere una fotografia della quale si è parlato molto e ci sta insomma in queste ore nel tutto questa conflittualità draghi conte e cioè la foto se la possiamo far vedere di draghi eccolo qui al museo del prado a madrid con tutti i leader che chiacchierano insomma che hanno un momento di socialità così al museo e draghi che telefona e ci si immagina che stia lui ha detto di no naturalmente che stia telefonando comunque a roma e allora dario fabbri volevo commentarla con te questa foto un po della solitudine è stato un po l'emblema della solitudine di draghi senza prendere una foto come come dire elemento ermeneutico che spiega esattamente tutto ciò che vediamo non è così sarebbe ingiusto a non per draghi lo è in assoluto insomma è uno scatto bellissimo senza dubbi una delle foto più belle dell'anno davvero eccezionale ma non significa che l'italia fosse per questo isolata al vertice della nato questo sarebbe sarebbe oltre che sgradevole scorretto non sarebbe giusto sarebbe eccessivamente severo l'italia al vertice della nato ha fatto la sua parte che non è una parte preminente insomma che questo dobbiamo essere altrettanto onesti non è che l'italia al vertice della nato tutto centrato su due temi l'ingresso di svezia e finlandia nell'alleanza atlantica e la consegna di armamenti e che cosa immaginare per il futuro dell'ucraina sì c'è stato anche il documento che per la prima volta segnala in maniera chiara palese la cina come nemico strategico dell'alleanza l'allanza atlantica non dovrebbe quel condizionale è molto d'obbligo non dovrebbe avere l'asia pacifico come si chiama una volta adesso si chiama indo pacifico gli americani preferiscono così nella sua testa però c'era ad esempio il primo ministro giapponese per la prima volta ha partecipato al vertice della nato l'italia che cosa ha fatto sulla questione di svezia e finlandia non ha toccato palla dibattita tutti intorno alla turchia che doveva togliere il suo veto c'è stata una lunga chiacchierata tra biden erdogan e quel passaggio è stato superato per l'italia è stato chiesto di consegnare di tihawitzer all'ucraina tema gli armamenti l'italia avrebbe detto sia che quel condizionale al solito d'obbligo di più roma non ha non ha fatto in quel vertice non era neanche richiesto per essere altrettanto onesti non siamo il paese più importante dire che addirittura all'isolamento quello semplicemente la foto racconta di una preoccupazione di una preoccupazione italiana e parla all'italia sarebbe eccessivo esatto se posso dire un po provinciale ma in generale le fotografie splendide anche come questa lo è davvero lasciano un'immagine che è caricaturale inevitabilmente perché è uno scatto è un è un frammento ricordate proprio sui verti scenato c'è stata qualche tempo fa una fotografia che era molto più concreta di questa bellissima anche quella in cui c'era trump dal tempo di trump circondato dai leader dei paesi della nato e in un atteggiamento estremamente dialettico diciamo così cioè sembra che stessero discutendo probabilmente non stanno neanche discutendo perché poi come sappiamo i capi di stati di governo raramente alzano la voce tra di loro perché fanno un altro mestiere però quella foto rendeva più di questa plasticamente un momento cioè quello in cui gli stati uniti dentro la nato si sentivano stretti con trump intendo e avevano l'intenzione di relegarla in un cantuccio questa foto per quanto bellissima non dice ciò che nella realtà l'italia non è un paese isolato è un paese non estremamente aveva delle preoccupazioni a casa non siamo neppure domestica l'unica cosa e poi mi taccio ricordarci che al di là del leader che guida questo paese che certamente non sta a medirlo al signore competente l'italia non è il paese più rilevante del mondo quindi ma questo può capitare anche di avere una foto così ma questo non significa moltissimo allora ci dobbiamo fermare però telegraficamente